Sicuramente l'affermazione del nostro studente ci riempie di gioia ma anche di orgoglio. Intanto per il momento particolare che riguarda tutti gli aspetti dell'antimafia, che erano le tematiche del concorso Santo della Volpe, gestito dal Comune di Erice. E poi perché in una scuola tecnica dove solitamente si pensa che non possano esserci ragazzi bravi nelle materie letterarie, un'affermazione di questo tipo sconfessa l'assunto che non sta da nessuna parte, confermando invece che gli alunni bravi e le scuole buone sono dappertutto. Qual è il tema che hai affrontato? Io ho affrontato il tema della lotta alla mafia in particolare seguendo una frase, una traccia ben precisa, mafie e indifferenza si possono sconfiggere e io ho risposto in modo molto chiaro. Ho detto che la mafia e le indifferenze si possono sconfiggere non solo difendendo i valori, quelli principali quali onestà, quali libertà, quali la pace, ma anche difendere questi valori e valorizzare quello che è il territorio e la storia e soprattutto non dimenticare mai chi ha dato la vita per questi valori e credere sempre in quello che facciamo, ogni giorno, sempre. Noi affrontiamo sempre i temi della legalità, i temi della convivenza civile, del rispetto dell'altro, per cui nel momento in cui lui si è prestato a partecipare a questo concorso aveva già una serie di riflessioni che sono venute soltanto fuori. Particolarmente interessante trovo lo spunto di riflessione che lui ha lanciato, cioè quello degli invisibili. Gli invisibili lui dice non sono le cose che non si vedono, ma le cose che non vogliamo vedere. Questa è una riflessione, uno spunto veramente interessante, per dire che forse spesso vogliamo chiudere gli occhi rispetto alle cose che non vanno in questa società. C'è bisogno oggi di tanti, Antonino Di Stefano, che riflettono e che fanno riflettere. Io sono assolutamente orgogliosa, come sua insegnante di italiano, del successo avuto in questa occasione e spero che sia soltanto il primo di tanti.